Siamo a riusciti via la capita Siamo in attacco Si prende Cluzz Anche se Ho un po' paura Io voglio provare Allora Io ho preso il grazie Ma Allora l'ho provato Vabbè non è simulazione Mi ho provato Va davvero schifo Cioè mi fa schifo Non so Però E va va anche questo partiamo In questo momento Però vabbè E però Voglio provare un po' Tutti gli operatori Quindi Cioè un po' tutto Voglio provare Tutti gli operatori Quindi finché non ho finito Farò una partita Con tutti gli operatori Farò un video Con tutti gli operatori Quindi Oggi tocca La missione è trovare Disinnescare una bomba Due Due round Un po' difficile Siamo calmi Stai caricando Hai perso il disinnescatore Abbiamo il disinnescatore Ma chi è che l'ha sforato Hai trovato una bomba Ma quello lì ci ha ucciso Ma questo Che problemi ha Scusate Se mi spari Incazzo Mi dispiace Ma ho avuto Sì Cacchio Vuoi questo Cioè A caso Così uccidi uno Vabbè Siamo in due Questo qua Ha fatto fuori Dio Non mi hanno perso Io ci ho Andato E' l'unica cosa Palla Non ho capito Se l'ho Prego Su E' l'unico All'esterno Posso togliere No Carma Ok Sai che poi Non è così male È così male Tra l'altro Non è così male Non è così male Il disinnescatore Ultimo uomo per la squadra alleata Eh Il disinnescatore è di nuovo nostro Non l'avevo visto Quadra d'attacco eliminata Allora La cosa della casa di carta Questa Vabbè Dai Alla fine ho preso Tutti il porto L'ho rubata Quella Il karma Poi non ha più Vabbè dai Non è stato voluto un round Glass Sai che l'ho sottovalutato Non crede oggi È stato così schifo Perché comunque Ti confonde Perché gli altri Non ti vedono Dalla fumaggina Che lanci Tu si metti Il mirino Così sì Quindi Usare il drone per trovare una bomba Vabbè Vabbè Non è giocato bene un round Abbastanza bene Perché non è fatta la meta Però C'è tutto lì con line Un link 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 E Vabbè E Non è giocato bene Un round Diciamo che La nostra media È raggiunta Di solito Il massimo che riesco a fare È giocato in round Quindi Lo faccio Mi sa tanto Che Non si fa Niente Però Avendo fatto All'inizio Potevo scansionarlo Avendo fatto All'inizio Come primo round È già bello Dai Magari Con un po' Di fortuna Non succederà mai Un altro round Magari Mentre si fa La difesa Ma ancora Palle Questi qua Che spalano Che problemi hanno Perché vi dovi decidere Da soli Oh io mi chiedo Questa cosa Vabbè Entra nello stesso Dallo stesso punto Dove Entrato prima Sì sì Entra nello stesso Mi col Vabbè Entriamo C'è qualcuno Quello Sempre quello Lì Con la cosa Con la schiena Della casa Di carta È invisibile Avevo visto Mena sembrato Vede qualcosa Di rosso Lì Ma no Cioè Non 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 È invisibile È invisibile È invisibile Sempre lui È È Molto Molto Liuso Che toco il buco Lì Che culo Ah No Lo so Che onda Unico No Poi cosa faceva Lì A caso Hai trovato La bomba Non solo Difensore Rimasto Dai 2v1 Dai Questo Si può Riuscire A vincere Dai Disinnescatore Attivo Proteggetelo A tutti i costi Ultimo uomo Per la squadra alleata Ecco Perfetto Non avrà tanta vita Dai 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 Difensori Eliminati Missione d'attacco Riuscita Non è pieno Anche se sto Non ho fatto Proprio Niente Adesso Riuscito Solo a morire Subito Guardate Sono ancora Comunque secondo Grazie Alla chi Ruvato Da quello Lì Dai Scusami Dai Può succedere Dai Dai C'è un po' di No Se in difesa Oh Captain Mi piace Vediamo Cosa riesco a fare Ma Captain Mi piace Allora Vediamo di vincere Sia questo round qui Che il prossimo Così Un pochino più alto Te lo metto Eh Non lo andate C'è cosa Che ti fa Tra i tutti La squadra d'attacco ha trovato una bomba Pronti all'assalto Sia questo Metti Mancano dieci secondi Attenzione La squadra d'attacco ha trovato una bomba Restano cinque secondi Cato individuato La squadra d'attacco ha trovato una bomba Chi è che ha rotto Questo Dai Magari non lo rompiamo Un'altra volta Me ne manca uno Non lo rompiamo Chi è Madonna Fatì di cattiveria Ricarica 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 C'è la mia C'è la mia C'è la mia Che palle Che mira Che schifo di mira Ho preso una volta Dai Deve essere un'altra C'è un'altra C'è un'altra Che palle Che palle No Vincere questo è il prossimo Se mettiamo questo è il prossimo Riciamo comunque a vincere La partita Se perdiamo questo è il prossimo Se perdiamo questo è il prossimo Impegnati Ciò puoi fare Piacere Impegniamoci un pochino Allora C'è un'altra C'è un'altra C'è un'altra C'è un'altra C'è un'altra Eeeh Che palle Come hai perso tutti l'auto Quindi la rimasso Guardiamo I strincoli uniti qua Se lo mattano solo Un'altra 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 C'entriamo la porta Magari Adesso Un'altra Ma che fa il sito ma è che stessi gioco quando mi mette il... posizione bomba sicura ok, mi mettono la droga perché ci mettono lì ma forse... mettiamo l'ultimo qua ok hanno trovato una bomba, sapete cosa fare? una bomba? è arrivando... cambio caricatore la squadra d'attacco ha trovato una bomba oh, basta! mi shottan solo che palle ho preso uno un operatore alleato rimasto oh, ho ucciso uno no, non ho fatto niente vabbè oh, servono anche non sbagliato non sbagliato non sbagliato, sì però vincitori, arancioni e... vabbè no, per me avevamo perso anche la scorsa volta vabbè vabbè no, sfida no, allora pacchetti andiamo, mozziamo un po' almeno a che non 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 Grazie a tutti.